I sindaci leghisti e le persone come Marcato sono abituati invece che risolvere i problemi a buttarli addosso alla gente per cercare di avere consensi. Sono abituati ad amare i propri cittadini liberali. No, non è vero, tu non ami i tuoi cittadini perché tu gli butti addosso le problematiche e basta. No, io tolgo i problemi perché li mando via, io li mando via i clandestini. Noi li mandiamo via i clandestini perché io prima penso ai miei cittadini e poi è i clandestini, prima vengono gli italiani, prima vengono i veneti. Aspetta, stai dicendo delle stupidaggini, non avete firmato? E per te la priorità di un italiano, una stupidaggini, assume delle responsabilità.